Tra pochi giorni l'apertura del cantiere nel palazzo dismesso ex Inam di Ponte San Pietro nasceranno la casa e l'ospedale di comunità. Da circa 12 anni è chiuso, abbandonato nel cuore di Piazza della Libertà a Ponte San Pietro dove tra l'altro c'è anche il municipio. Il palazzo ex Inam che fu sede del pole ambulatorio diventerà casa e ospedale di comunità. A giorni si parla di aprire, il cantiere aprirà. Un'operazione da 6.600.000 euro con finanziamento del PNRR più 700.000 euro degli oneri di urbanizzazione. L'intervento sarà relativamente breve, la casa sarà pronta entro la fine dell'anno riportando nel cuore di Ponte San Pietro il polo della salute che servirà i cittadini dell'isola. Sarà un punto di riferimento per i servizi socioassistenziali, non solo sanitari, dell'intera isola bergamasca in stretta connessione anche con gli assessorati servizi sociali dei comuni dell'isola bergamasca e con l'azienda isola che è l'ente a cui i comuni hanno delegato molte funzioni dal punto di vista sociale. Un'importante riqualificazione che arriva dopo l'apertura del centro per l'impiego nell'altro lato della piazza. È stato aperto e oggi è pienamente in funzione il nuovo centro per l'impiego provinciale di Valenza Sovracomunale aveva bisogno di nuovi spazi proprio per andare incontro alle esigenze anche degli utenti e oggi trova una collocazione pienamente idonea nell'ex Palazzo Rittorio, oggi Palazzo Libertà. Resta la questione parcheggio. Il comune avrebbe voluto liberare la piazza dalle auto ma con la prospettiva di un viavai di utenti per ora l'idea è stata accantonata. Per intenzioni sarebbe bello riconsegnare la piazza interamente o comunque parzialmente alla cittadinanza senza auto. Ovvio che con questi servizi questo almeno nel breve periodo è di fatto impossibile. Ci stiamo lavorando per il medio e lungo periodo e questo è l'ospicio ovviamente di tutti facendo convivere entrambe le funzioni, quelle di piazza e quelle ovviamente di sede di servizi pubblici.